Il campionato è sempre meno possibilità per centrare il proprio obiettivo anche se diversi i padroni di casa per la permanenza in questa categoria gli ospiti invece per rimanere dentro la zona playoff entrambe sanno che oggi vi è dato sbagliare Amici di BepiTV un saluto da Lorenzo Tassoni e benvenuti alla 33esima giornata di campionato di Serie D del Girone F dove lo stadio Italo Nicoletti questo pomeriggio scendono in campo United Riccione e Vigor Senigallia in bocca per Verrocchi parte in questo momento a rientrare per la Cani in mezzo Caponi dal limite subito la prima occasione dopo neanche un minuto di gioco sui piri di Caponi marcatura a zona quella del Vigo Senigallia colpo di testa di Maio che va ad anticipare tutti in un primo momento il pallone la palla arriva buona per Silla che va da ramire sconta i passi mette in mezzo il pallone per Matteucci la palla arriva poi a Pellacani quasi a colpo sicuro c'è spazio palla dentro che attraverso tutta l'area di rigore arriva sul secondo pallo Mancini batte lungo cercare in area di rigore Pesaresi la palla rimane lì Ndoy non riesce a buttarla fuori poi Pesaresi calcia debole e centrale avanti c'è il contropiglio dall'altra parte però con Keriota che va a puntare Siku Keriota si appoggia da Pesaresi ancora Keriota che calcia il vantaggio della Vigor Senigalli al minuto numero 13 con Keriota Mario Maio può provare ad andare dentro il pallone per Silla spai la porta Pellacani calcia di prima alto Karesilla lo fa e poi vada Pellacani in mezzo il pallone dietro per Matteucci poi Caponico di prima di poco sopra la traversa non c'è stata deviazione di Roberto si ripartirà allora con una rimessa dal fondo Samb atterrato riesce comunque a far arrivare il pallone a Ramirez sulla parte sinistra finita il cross può avanzare Ramirez limitata l'area di rigore per la conclusione di Samb di prima bacino al palo la palla che entra in porta e arriva al pareggio dello United Riccione Cani riceve subito il pallone dietro per Ramirez alto cross in mezzo cercata la testa di Samb deve volare e mettere in calcio d'angolo Roberto dalla parte sinistra mette giù il pallone e poi mette un cross al centro per la testa di Maio facile però il playoff ora Silla continua ad attaccare recupera il pallone insieme a Matteucci palla per Maio limite dell'area di rigore Maio sul destro calcio Maio si continua Romizzi palla in avanti per Pesaresi posizione regolare del numero 9 in area di rigore Pesaresi gira e calcia che può prendere campo supera ed entra nella metà campo avversaria palla per Maio Pellacani rie il volo la palla è ancora buona per Pellacani ancora lì doppia parata miracolo da parte di Roberto e due volte vicino al vantaggio lo United di Riccione si libera di due avversari Matteucci ce l'ha sul destra e calcia buona occasione ma palla che viene sparata alta sopra la traversa va a puntare Giudato ma viene raddoppiato insieme a Matteucci pallone dentro incerto Rossi nell'uscita e dall'altra parte arriva la conclusione di testa da parte di Carriota un po' di spazio sulla sinistra ci sono liberi Bellello che lascia per Carriota è un contropiere palla dentro per la conclusione a colpo sicuro e si rivora il gol del vantaggio e la porta sponda per Ferrara che può andare a puntare l'avversario Ferrara palla dentro per Maio che colpisce di testa può andare Ferrara mette in mezzo per la testa di Matteucci il colpo di testa del 17 la palla perfetta del 10 minuto numero 44 mette la freccia lo United Riccione uno due tre fischi da parte di Verrocchi dice basta così lo United di Riccione batte 2 a 1 il Vigor Senigallia e ottiene tre punti importantissimi di Riccione di Riccione di Riccione